e stai 50 ore a fare la challenge in macchina sei meglio di quello che spaccia indubbiamente indiscutibilmente c'è da capire come tu fai queste 50 ore in macchina se hai 20 anni e ti prendi una fra di serie che da 0 a 100 poi sfreccia senza curarsi 18 per cadentro questo però dobbiamo vederlo secondo me visto molto bene diciamo che sono due situazioni che comunque non andrebbero minimamente considerate assolutamente va da sé che io e te che siamo già ragazzetti formati con licenza media superiore militesente e oltre 40 abbiamo degli strumenti per analizzare la rete e il virtuale i ragazzi che escono e hanno uno smartphone e vedono questo che diventa ma io vado giù di testa l'altro giorno nell'attesa del medico di un certificato incomincia a scorrere instagram e ho detto fammi vedere allora è una carrellata nel periodo delle vacanze dei calciatori si è una gara a farsi vedere in quel luogo esotico con la ragazza stra rifatta da capo ai piedi hanno vent'anni e griffati dalle ciabatte fino al fermaglio quale tipo di indirizzo vero e di esempio tu fornisce un campione dello sport si è un esempio sai migliori fa l'altro mi viene il parallelo che si faceva una volta con la televisione diseducativa ma se tu guardavi i programmi televisivi i programmi televisivi anche più deficienti avevano e hanno una scrittura un racconto qua c'erano delle cose che non fanno praticamente manco ritmo cioè non c'è nulla che non c'è chi non ha gli strumenti per analizzare un minimo nel che deve su